Marco frontale, Luca frontale, due, bravissimo Marco, ancora due, Luca sono tre i passi di qua, aspetta cazzo tre Marco, devi andare indietro, non sgambettare a caso quattro Luca sono tre i passi di rincorso, non due Luca da rete, ancora quattro, però bella attacca bella battuta ancora quattro ancora quattro, andiamo Luca 5 Marco, vai solo indietro, non di là sei, buono delzato stai andando indietro col colpo, Luca la gamba sinistra avanti ancora sei sette bella battuta questa guardate la cosa fa una battuta semplice come questa lo costringi a muoversi ed è spacciato fermati quando ricevi ancora sette non devi incrociare le gambe, l'ha capito o no? lo incroci sempre anche quando alzi, sono incrociato 8 devi muovere velocemente prendete il ruca fuori 9 Metti una più comoda questa È una battuta corta Quindi tu la metti sul tuo braccio destro Perché ci sei prima lì Se gli la metti comunque sia davanti a te Su battuta corta Lui non parte perché non ha proprio l'input di andare È esatto 9 Luca non esagerare 10 Non la sbracciare Dai Luca Alza bene perci portarti dietro di te E quante siete? 16 Grazie Concentrazione sull'eutile per favore 11 Sei in piedi Luca E se non ti volti la palla va lì Stai in equilibrio Marco Grazie. 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 Muove il culo. Muove il culo. Io fallo a volo. Balla. Molto il paraplegio. Buon passo da哥. Certo. Ok. Yeah! Ecco la gente devi discками. Balla. Ce ne faccio. Grazie. 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 Tieni le braccia stese. 14.